ciao a tutti oggi prepareremo lo zeppolone di san giuseppe con crema al caffè il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa ingredienti sono acqua burro sale farina di tipo doppio zero uova lievito per dolci vanillina zuccherlo mandorle a lamelle una dose di crema al caffè e gocce di cioccolato fondente diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua lo zucchero la vanillina il sale e il burro azioniamo il bimbi per dieci minuti 100 gradi velocità 2 aggiungiamo la farina il lievito e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3 attendiamo per dieci secondi trascorsi dieci secondi azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3 lasciamo raffreddare all'interno del boccale il composto per 20 minuti circa trascorsi il tempo il composto si è raffreddato chiudiamo con il coperchio senza il misurino azioniamo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 4 e dal foro del coperchio aggiungeremo una per volta le uova attendendo tra un uovo e l'altro che si assorba nell'impasto a questo punto fermiamo il bimbi riposizioniamo il misurino e lo azioniamo per 30 secondi a velocità 4 il composto è pronto trasferiamolo in una sac a poche abbiamo rivestito con carta da forno una stampa a ciambella del diametro di 24 cm adesso con l'aiuto della sac a poche formeremo lo zeppolone a questo punto spolverizziamo con le mandorle a lamelle su tutta la superficie cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi posizionando la teglia nella parte bassa del forno per un'ora circa mi raccomando non aprite lo sportello prima di 40 minuti terminata la cottura aprire lo sportello e lasciarlo leggermente socchiuso il tempo di intiepidire abbiamo riempito la sac a poche con la crema pasticcera al caffè adesso andremo a farcire lo zeppolone mettiamo le gocce di cioccolata copriamo con la parte superiore e spolverizziamo con abbondante zucchero a velo zeppolone di san giuseppe con crema al caffè grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti